Sandro Matta, uno dei dirigenti dell'Ala Fidelis, sconfitta sul campo della Volturnia, una partita comunque giocata a viso aperto da entrambe le squadre. L'avete ripresa malgrado il doppio svantaggio, l'avete provato anche a vincere, l'avete stato annullato il gol del probabile sorpasso e poi l'avete subito nel finale. I ragazzi dell'Ala Fidelis hanno dimostrato comunque di essere una buona squadra, anzi un'ottima squadra, che non meritano la classifica che hanno. A mio avviso il risultato è bugiardo per quello che si è visto in campo, c'è stata una gestione discutibile su qualche episodio che ha poi deciso il risultato finale. Complimenti comunque alla Volturnia, che merita il fatto di aver combattuto fino alla fine, di averci creduto. Però noi abbiamo tanto da ricriminare, sia per le occasioni create e sia per il gioco che abbiamo espresso in tutto l'arco della partita. Anche sugli ultimi due gol subiti avete concesso degli spazi a campo largo? Sì, ci sono stati degli errori da parte nostra, però nell'occasione del terzo gol a mio avviso c'era un fallo evidentissimo sul nostro attaccante esterno. Ci siamo fermati, quello è stato l'errore, il difensore è stato preso alla sprovvista, ok, però purtroppo il calcio è questo. Salvezza diretta, quasi vicina, anche se c'è ancora da lottare, ci sono diverse giornate? C'è da lottare, è un campionato diciamo abbastanza avvincente e combattuto sia nella zona alta che nella zona bassa della classifica. Ci proveremo fino alla fine a dire la nostra e a fare comunque quello che ci siamo prefissati. C'è un campionato tranquillo per far crescere i giovani e organizzarci poi per la stagione prossima con altri obiettivi.